partito amici sono femo blas per gli amici blasfemo me so fatto un endovenosa de caffè e il bibitone de caffè perché qui me do metto all'ascolto perché sto festival finisce verso le due due in quarto ma se può mannare dei cantanti che fanno la gara in onda dal rita pavone all'una in quarta ha fatto ma rispettate l'anzianità quella quelle d'anni la faccia sonno no è quell'altro zarrillo ai due venti è finito ma che pensate ammattiti quindi la sigla d'inizio questa sera del festival del settantesimo festival sarà la turandot nessun dorma nessun dorma e poi ci fanno pure la sigla finale ho notato che junior kelly quello lì che ha la maschera si è levata la maschera per non farsi riconoscere se non sai sai le bottiglie d'anno poi dice a chile lauro sa cantare quello non sa cantare non sa cantare allora devi far parlare di lui con i vestiti se trucca io quando è uscito fuori con l'occhio gli hanno menato invece no sarà truccato dice che mo prima di lui david bowie ha fatto pure renato zero infatti lui è sotto zero dunque poi c'è un'altra cosa dice che uno va a saremo per farsi un nome ma fatevi pure un cognome perché amadeus fiorello elodie anastasio rancore tosca di odato di odato se può dire di odato non è di odato insomma bisogna stati non nominare il nome in vano capito però dice che si può dire pure buco morgan infatti morgan ha detto io non faccio un buco nell'acqua io si vada saremo tiro dritto tiro nel senso dritto e devono parlare di me infatti da ieri stiamo a parlare di questi due quello dice il successo va preso a mozzichi ma pure il collega uvi a mozzichi dice sì sì è una verità sputata infatti ha sputato allora morgan ha dice io dice mo ci hanno squalificato ci hanno mandato a casa morgan incazzato nero ha detto io ando vado a casa me l'hanno lavata pure sto morgan però insomma certe cose se fanno così perché io li capisco perché io pure son cantautore no allora quando c'è io aspiro e invece io tiro dritto verso cesso due capito uno stava sotto scimmia quell'altro era proprio partito l'immortanguerie vabbè insomma vi saluto e quindi al vincitore gli daranno oltre alla targa e al premio pure cappuccino e cornetto e la sigla finale come ho detto all'inizio sarà sempre dalla durandotte dei puccini all'arba vincerò mortacci stracci ma il maestro puccini ci perdoni quella sì che era musica questi fanno invece un grande evento televisivo che è un gran minestrone il contenitore c'è sta tutto ma il canto non sta la gara dei cantanti non sta io non vi capisco vabbè mi metto all'ascorto ma c'ho il bidone di caffè vi saluto